Benvenuti in un nuovo video! Novi ragazzi, io sono troppo contenta perché oggi siamo qui per aprire un vero e proprio calendario dell'avvento infatti sì, questo pacco e questo calendario ci ha fatto un po' dannare però è arrivato, è arrivato e sto guardando il calendario dell'avvento di American Crunchy allora ragazzi, scusate se forse non ci vediamo, che ci vediamo un attimo in età che ci dobbiamo far rambientare nella nuova postazione specialmente quando siamo in due a due allora, ho pagato ovviamente questo calendario 33 euro in preordine e poi vabbè ho preso anche altre cose perché in questo video noi lo spacchetteremo solo perché altrimenti la capire è super lungo e poi faremo tanti video snack insieme io e lei dove vi faremo tanti video assaggi ok, a te l'onore di aprire la casalina numero 1 ok, tre ore per cercarla eeeh aspetta ma raga, eccola qui vai ooooh non vorrei rompere ooooh vedi piega ok che cos'è? eh, butta poco ecco ooooh ooooh vedi si è incastrato sono due mamma che sono sane cioè raga, ce ne sono due un parto ok uno c'è il tutto c'è il tutto uno lo esist un risis raga, l'altro cioè raga mamma mia ne sono due ne sono due stile natalizio sono due campanellini a forma di risis Eccolo qua, io non so se si vede Ah, però manco a farla apposta a due Due? Perché non lo sapevano, secondo me Ok Ma a favore di andare E raga, la casellina numero due Sta qua Questi secondo me sono altri Ma raga, non ci siamo, eh Non ci siamo Si vede La caramellina No, vabbè, io le odio Sveglio Sempre il stesso Ma l'odio Quando è sta cosa piccola Cosa ci darà? Aspetta, fai scegliere Ok Non lo so cos'è Meek and like Sono caramelline Lutine free Non ci siamo Non ci siamo Cioè raga, assolutamente no, già non mi piace Ma è normale Ok, la numero quattro Eccola, qui è un po' più grande Spero, va bene Spero, va bene Ok, però fatto così è un po' scomodo Sì Mi si è soffiato Blu, vabbè, lo scopo prima Ok, vai con la caramellina numero 5 5 È bella grande Aspetta, però c'è qualcosa dentro Mantini Oh, allora raga, c'è un 15% di sconto E poi nella caramellina c'è questo qui Handy Cups Cups? Sì, Handy Cups Cheddar Sono le patatine Sono le patatine Ci sta, ci sbaglio Sì, già le abbiamo provate No, mi sembra che le ho comprate io Per fare il video Ah, ok Bene Bene, io Numero 6 Ho trovato il 7 Ma il 6 dove sta? Eccolo Raga, comunque io le sto prendendo tutte qua Se caselle così piccole non mi piace Ok Fatta un vuoto Che cos'è? No, raga No Che odio Ah, io le odio È un candy cane Alla volta Che si chiama panno tutti Yeah Infatti Questa è molto forte Sette sta qua Tu sei Tutte le grandi Sono le grandi enormi Va bene I pestolini Goldfish Madora Eccole qua No No, vabbè Ma quanto sono belli Non vedo l'ora di assaggiarli Ma pensa se al giorno Dovessi veramente aprirne una Cioè uno che ti esce un coso Così un giorno Allora, torno da mettere dentro Sì Ma bene Allora 7, 8 Tu devo aprirle rotto No, raga L'ho tutto di nuovo piccolo Sto qua No, vabbè Ci sono un sacco di cose Un sacco di cose brutte No, vabbè No, vabbè Ma che esce Che muovere Ragazzi Questa cosa è bello Tu Allora Nerd Nerd Sono le Come si chiamano Tipo confettini piccoli Qua Sosti così Qua No Non è giusto Mi dispiace Hai lavorato con la sua La mia No, vabbè No, non ho parole No, raga Queste sono le Leggi tu Qual è? Fungence Oh, mamma Fungence 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 Comunque sono gli anelli di cipolla Che Cioè, ragazzi Ho acquistato tutti i prodotti Che ci sono nella box Si può dire Quindi ce li ho due qui Però bene Andiamo bene Comunque A saperlo Speriamo bene Andiamo avanti La 10 Sta qui sotto Ovviamente Piccola No, aspettiamo Piccola No La 10 Andiamo Che A questo è la mia Re INFORMU No, ecco Il berenzo di Natale Reasons No, vabbè Raga ma la bellezza perché questa edizione è limitata solo perché compra il calendario no però non penso lo so lo sai oddio ma si è sciolta un po' e poi fa questo prego signorita tea 11 11 tutti grandi a lei amy dance crunchy caramello ma tu? che se lo fate con me? crunchy caramello ci piace ecco il qua spero che si stia vedendo qualcosa 12 12 12 40 suono peschi e canta vedi che sta qua questo è il 21 no ma tu la eccola brame grande brame grande ok quindi forse qualche patatina cosa c'è? non si si molto rombo buro aspetta ok sono cracker jack di original sono i pop corn caramella no e pinz e pinz e pinz e pinz e pinz adoro quello qua speriamo che si vedete perchè sono tutto ok tu devi aprire la 13 la 13 sta lì sopra che ti è una casella piccola il karma cosa c'è? c'è la brava marxerz 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 ma non mi stiamo pronunciando mamma mi sorry quelle palline di cioccolato no anche pure le ho viste si si sono tipiche là ecco le qua ok quindi tu 14 14 tu sei a fianco piccola e siamo a carnevale i miei colori preferiti ti promuovo pops no fluffy ecco la qua stavo prendo la 16 ok speriamo 15 15 15 15 15 la tua vicina di casa un po sopra abbassa un po' non c'è niente no che dici se lo giro non c'è niente no c'è qualcosa aspetta no ormai che non ci stai venendo no ci stavo detto non c'è niente questo è un watermelon tipo una caramella quella qua bene ok io vado sopra si si che cosa è? ne ho avanti 17 no ma non ce ne va non c'è niente ma che c'è niente ma poi c'è niente oh ma sono fruttella tipo sembra che c'è banana spero almeno che sia limone banana no tipo fruttella però banana e caramellina non va bene va avanti con la 17 e la grande c'è una cosa un po' spoiler cos'è ronzia ma aspetta però non sono quelli la originale qui c'è l'originale hostess hostess sono i twinkies e i twini non mi ricordo eccolo qui ok al latte 18 ma io 19 va 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 qua spoiler spoiler il 23 capo visto che sono piccoli ne metti pure due sai guarda sta con la cosa aspetta ok aspetta fammi vedere ah no forse fosse la marca di quelli di prima allora praticamente allora quando vanno al cinema mettono i prodotti se prima stavano con i rossi queste caramelle tipiche le hanno fatte brucialle eccole qui ok quindi dove aprire la 19 19 19 è il tuo numero? spero va bene non penso perché piccolo comunque sta già finendo oreo ora penso che siano quelli classici mi sembrano ricoperti ora ricoperti lo assaggeremo nel video assaggio vedremo no è assaggio numero 20 ci avviciniamo eccolo qua cioè io queste le ho aperte tutte io sopra 20 tutte buttiamo un po' se è quello che è quello che è la prima passione natalizia allora ragazzi sono quei gusti all'interno che fanno schifo vi giuro ah no non lo so però vi giuro che faremo un video vedi si o allora marola mia ok faremo un bellissimo video con le caramelline stile natalizio che bello Harry Potter siamo in zona rossa eccolo qui fateci sapere se volete il video comunque io vi faccio vedere il packaging vero adoro adoro ok 21 sta lì sotto sempre grande questi sono buonissimi ragazzi sono buoni sono i cookie a M&M's piccoli qua no ragazzi questi sono troppo buoni wow questi sono buoni io 22 22 22 grande le pop le pop ci sono i miei queste le ho messo con la ciligia wow queste le dovrai trovare in un video cheat day no ma pure riscaldate no mamma mia mi dico no ma pure riscaldate 23 quindi tu concludi no concludiamo insieme l'apriamo insieme l'altra 23 no l'ho rotta no no è proprio che l'ha fatto un poco male vai vai non c'è niente no no il zucchero filato il zucchero filato il cotton candy poi lo vediamo pure le nostre conclusioni 24 ok ci accingiamo la video che io faccio vai 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 apri tu oh ma la c'è una cosa buona cos'è cos'è Candy Hershey's candy cane no è una cosa nuova penso sia una novità sì sì ma il candy cane c'è pure 25 no finito allora io carino però considerate che comunque è un calendario di 33 euro non lo so ti aspetti qualcosina però però ci sono salvezzi ci sono tante cose solo che io avrei evitato tante 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 caramelle perché comunque però dai ci sta ci sta è quella un po' delusa però ci sta dai ci sta ci sta ok ok quindi raga io comunque al di là di tutto sono rimasta soddisfatta perché già la cosa di aprire la casella e vedere cosa c'è all'interno è una gioia e quindi niente questo non lo possiamo pure un attimo cosa ovviamente noi assaggeremo tutto nei video catalogheremo un po' di cose faremo un po' un mix cose che ho acquistato io le cose che sono uscite nel calendario dell'avvento e vi faremo tanti 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 video assaggi se questo video vi è piaciuto lasciate un pollice in su e niente soddisfatto tu? si ok allora adesso facciamo un po' di video assaggi e niente noi ci vediamo nel prossimo video ciao